Osservare la regola di Sant'Agostino. Il Cardinale Zuppi ha presieduto nella chiesa di San Secondo a Gubbio il rito della benedizione abbaziale di Don Edoardo Parisotto, eletto abate generale dei canonici regolari lateranensi e al momento parroco ai Santi Monica e Agostino e a San Giuseppe Lavoratore di Bologna. 51 anni Don Parisotto, di origine trevigiana, ha compiuto la sua professione religiosa nella congregazione nel 1992 ed è stato ordinato sacerdote nel 99 a Treviso. Ha svolto la sua attività pastorale anche a Santa Maria Forisportam a Lucca, a San Floriano nel Trevigiano, poi a Roma dove è stato cappellano universitario alla Sapienza e parroco a Sant'Agnese fuori le mura. Dal 2018 era parroco a Bologna e anche vicario pastorale. I canonici regolari sono sacerdoti che praticano la vita comune secondo la regola di Sant'Agostino e che sono dediti al servizio divino e alla cura pastorale dei fedeli. L'attuale congregazione lateranense è il risultato di una fusione dei canonici renani radicati nel Bolognese e una comunità che ebbe le sue origini nel IX secolo nella Cattedrale di Roma. Attualmente l'abate generale risiede a Roma nella Basilica di San Pietro in Vincoli. Ogni comunità, ha detto il Cardinale all'Omelia, non è mai la somma delle nostre persone perché tra noi c'è il Signore Gesù ed è Lui che ci rende una cosa sola con Lui e tra di noi, quanto è importante essere comunità in un mondo di individualisti a cominciare da noi. L'abate, ha proseguito l'arcivescovo, ha il compito di aiutarci a pensarci insieme, di ricordare a tutti di seguire Gesù e di lavorare nella grande vigna di questo mondo essendo Lui stesso servo come Gesù che è venuto a servire e non per essere servito. Aiutiamo Don Edoardo perché Lui servirà nella comunione ma l'unità è affidata a ciascuno di noi. Nel mio servizio, ha sottolineato Don Parisotto nel suo intervento a conclusione della celebrazione, voglio valorizzare non l'autorità ma la relazione, come quella di un padre che genera, che fa crescere e accompagna, di un fratello maggiore, visto che sono un abate molto giovane, che coltiva la fiducia, che ascolta e parla, che sa trovare il giusto equilibrio tra la parola e l'ascolto.